Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma si segnala un chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 390 tra Valdichiana e Chiusi. Sempre in A1 per consentire lo svolgimento di una manifestazione religiosa, stasera dalle 20 a mezzanotte sarà completamente chiuso lo svincolo di Monte San Savino in entrata e in uscita. Per la viabilità cittadina a Firenze fino al 5 ottobre lavori di realizzazione del nuovo Marciapiede in Via del Paradiso, strada chiusa da Via Fortini a Via San Marcellino. Per i cantieri della tramvia è stato allargato il cantiere in Piazza della Libertà ed è scattata la chiusura del collegamento con Viale Don Minzoni. E anche per oggi è tutto, a mercoledì buon Ferragosto e buon viaggio!